La Ferma Raga è arrivato il momento di parlare di una cosa molto molto seria E cioè i live, il tour, San Siro, lo stadio eccetera eccetera A quanto pare fino al 2021 non ci sarà nessun live, nessun intrattenimento dal vivo Così dicono, anche se ne dubito Quindi lo stadio verrà, mi dispiace dirvelo raga, ma verrà spostato all'estate 2021 Perché gli stadi si possono fare d'estate Il concerto dovremo farlo questo 14 giugno Ma è impossibile raga, non ce lo permetto Io oltre chiedervi scusa, anche se non è colpa mia Non so che fare in questo momento Ci inventeremo qualcosa, di sicuro La cosa che mi dà molto fastidio è che per molti I live e i concerti non sono così importanti Ed è sbagliato, perché è un lavoro ragazzi Dicevo, anche fare musica dal vivo ragazzi Che vi piaccia o meno, è un lavoro È un lavoro come tanti altri Come fare il commesso, come fare il parrucchiere, il calzolaio Fare il capo di stato, è uguale Non è una gara chi ha il lavoro più importante Il lavoro è lavoro E va rispettato Io personalmente ho 50 persone Che lavorano con me Che piazzano e smontano il palco C'è il rigger che si alza a 30 metri Il lucciaio, il fonico 50 persone Ed è uguale per i miei colleghi Anzi c'è chi ne ha di più 100, 150 persone E che facciamo? Senza il nostro tour Senza la musica dal vivo Queste persone non lavorano Io non voglio lasciare nella merda Le persone che hanno creduto in me E che hanno lavorato con me Io potrei fare l'ipocrita Non fare un cazzo per 4 anni Ma non è giusto Quindi magari uniamoci ragazzi Inventiamoci qualcosa Per favore